15 indagati per un traffico di rifiuti pericolosi, fra i quali batterie esauste, apparati refrigeranti, metalli ferrosi e rame. Un giro d'affari di circa oltre un milione e mezzo di euro. Vediamo il servizio di Maurizio Ciotola. Il traffico dei rifiuti tossici è da molti anni il business della malavita organizzata. La Campania, la Calabria, il Nord Italia, le ampie zone dell'Africa sono utilizzate come sbaltimento dei rifiuti pericolosi. Non sempre sono tutti pericolosi però. Alcuni sono comunque commercializzabili in modo illegale e non tracciato. Si è scoperto il traffico di rifiuti che da Olbia raggiungeva Cagliari o meglio il Sud Sardegna. La Sardegna non è nuova a queste pratiche legali sul suo territorio in cui questo esercizio pericoloso che genera situazioni ambientali irreversibili è veicolato da organizzazioni malavitose. L'insediamento del distretto antimafia Cagliari da poco meno di un anno, oltre ai traffici di stupefacenti e altro business delle organizzazioni mafiose, vi è quello per cui la nostra isola sta diventando una pattumiera per il mondo intero. Qualche mese fa abbiamo parlato dell'utilizzo di cave di smesse sempre in gallura come depositi di rifiuti tossici in una gestione mafiosa. Questa volta risultano indagati 15 persone, di cui 11 di origine bosniaca residenti a Telti e Olbia, 4 italiani rappresentanti legali o gestori di società del settore trattamento e recupero rifiuti metallici, con sedi operative nella provincia di Cagliari. I rifiuti pericolosi che l'organizzazione gestiva illegalmente e per cui è ancora in corso l'indagine sono batterie esauste al piombo e apparati refrigeranti, mentre tra quelli non pericolosi ci sono i metalli ferrosi e apparecchiature elettriche ed elettroniche.